Ciao a tutti! Oggi dove abbiamo mamma? Oggi abbiamo un pacco dalla... Cicabum! Cicabum! E dentro cosa ci sarà? Apriamolo là! E dentro cosa si può trovare? Un personaggio e un dado alla carta Va bene, chi apre per primo? Io! Vai Edo! Vediamo se troviamo un personaggio super raro! Vai Edo! Apri la prima bustina! Un dado rosa! Quello che volevo io! Un dado rosa! No! Quello che volevo io! Personaggio? No! Lo voglio io! Sakura! Sakura! Che carina! Tutta rosa! E questa è la checklist! Abbiamo i glow in the dark, i silver ultra rari, i superstar! Uno di ogni 480 bustini! Naruto glow in the dark! E da questa parte quelli gold! Soltanto 4.000 pezzi sono super super rari! Limited edition! Noi abbiamo trovato lei, Sakura! E adesso Alice apri un'altra bustina! E qui dentro chi c'è? Vediamo! Un dado giallo! Wow! Quello io! Vediamo! Apriamo la bustina del personaggio! Chi è? Una buccia! Una buccia! Una buccia! Chi è? Sunade! Ok vai! Adon prossima bustina vai! Vediamo chi abbiamo trovato! Un dado verde! Un dado verde! Ancora nessun personaggio raro! Ah si! Infatti! Quello che abbiamo trovato! E chi è? Dio Ado! La mia! Rock Lee! La bustina! Rock Lee! Ok! Prima la bustina Edo! Alice! Sì! E dove ho trovato una buccia a me! Vai! Vediamo chi ha trovato Alice! Un dado rosso! Sì! Questo già lo abbiamo trovato! Ma basta! I tacchi! mettiamolo lì, ultima bustina Edo, forse ne troviamo uno caro, dai proviamo, dai 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 forza, vediamo se siamo fortunati vai 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 vai, ultimo personaggio, vai, una nera, c'è una bustina nera, attenzione, attenzione l'abbiamo trovato una nera, vediamo chi è, l'altro Rock Lee, Rock Lee, wow, questo è raro, è quello che si illumina il suo dato qual è? il suo dato è questo, è verde, ok, mettiamolo lì, allora, nessun personaggio l'hanno trovato, cara per la prossima io invece volevo trovare questa qua Naruto? tu volevi trovare questo quello d'oro e, compriamo altre bustine e ricordate che potete trovare le bustine in edicola e nello shop Shikaboom e con i bellissimi Naruto Bumez io, Alice Edoardo ti aiutiamo e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao